salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la carriera qui con vrc siamo alla trentanovesima settimana vediamo un po cosa ci aspetta in calendario abbiamo il tour estivo dei classici moderni con i rally di sardegna evento 5 di 6 altrimenti abbiamo quest'altro evento 5 di 6 di croazia nessuno di questi è diciamo un obiettivo del benefattore però questo siamo in classifica per il momento siamo terzi addirittura e primi come team quindi direi di fa questo insomma se no se facciamo questo qui di sardegna poi saltiamo questo è già che stiamo in una buona posizione per lo meno proviamoci non mi ricordo anche dove si corre in croazia con l'asfalto quindi vediamo bene dai asfalto ma cavicchio ma l'ultime parole famose però insomma sono sempre andati discretamente quando avevamo l'asfalto come superficie questa parla sempre vediamo un po più nel concreto mazza e stappa 10 chilometri che curva difficoltosa da una dai qualche curva sembra un serpentone quella mappa giusto che prende confidenza ovviamente poi andiamo nel vivo della situazione perché devo prendere un attimo l'abitudine nell'asfalto c'è quella sensazione di aderenza paurosa e quindi la vettura te gira ok questo me lo ricordo sto cartello la vettura te gira pure troppo quindi te te spiazza un attimo quel cartello lo ricordo la prima volta ovviamente che famo storie lì però e non è assolutamente la prima volta che ci finimo contro no 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 e niente andrà benissimo sto show down eh ecco tu non è finita ma insomma se il buongiorno si viene dal mattino stavano picciati già dopo 59 secondi quindi insomma guardi i danni che abbiamo fatto e prepara ma riparala più che prepara riparazioni consigliate ok perlomeno siamo riusciti a rimettare a posto allora più che altro vediamo un attimo i pneumatici abbiamo pure due di pioggia addirittura e cacchio allora ce n'abbiamo già due due tappe da 17 chilometri e qualcosa 18 quindi quasi quasi vado con le medie adesso e poi vediamo perché poi la gara singola magari un po più demorbide visto che è sicuramente anche più corta quelle lunghe mentre quelle due da bagnato secondo me l'ultime due ci aspetta una situazione un po' bordelaine allora partiamo 33 quindi 161 partenti quindi è ampia la la schiera di piloti iscritti non abbiamo riferimenti quindi vedremo una volta arrivati all'arrivo com'è la situazione che altro occhio al cartello quasi non la mano a solita fine e cazzarola e accendo sinistra 30 il problema è che sull'asfalto vai buona parte delle volte a blocchiare il fatto che non ha il controllo dell'abs colpata è un casino cercate parzializzare quindi facile che vai a blocchiare se vai a blocchiare vai lungo cazzo sta oddio stavo andando in là non so perché ma era da girare là niente poi vabbè non abbiamo i riferimenti quindi sapremo tutto una volta raggiunto il traguardo a parte che se non ricordo male ci sono tipo multiclassi dentro a sto campionato quindi quindi corriamo insomma con vetture anche con prestazioni differenti però insomma si è aperta a tutti questa c'avevamo 130 vai siamo ma cammerà ancora è troppo ok 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 per me ti devo fare normalmente è inutile che cerco di fare la gira con il freno a mano partiamo dal fatto che c'è da frenare prima poi pensiamo a girare destra 3 50 sinistra 6 corta 200 rallenta accenno destra subito in tornata a sinistro 60 insomma colpetto di freno a mano io ho tutta da l'interno niente niente sinistra 4 corta non tagliare 60 sinistra 2 corta 40 destra 3 e destra 6 rallenta 40 accenno sinistra in destra 2 e tornate a sinistro apre apre sinistra 2 e destra 4 e destra 5 rallenta lenta 80 agli ultimi due settori e poi vediamo com'è la situazione in accenno sinistra 30 ritardo a tornante sinistro e destra 6 lunga in accenno sinistra e tornante destro 30 accenno destra 120 sinistra 1 non tagliare ok ok accenno destra rallenta 70 destra 6 50 tornante sinistro apre e sinistra 5 corta 60 eh dai ultimo settore ok vediamo che va bene vediamo che va bene vediamo che va bene 30 accenno sinistra 150 ok si allarga un pochettino non tagliare 40 destra 4 chiude 50 sinistra 6 200 ok accenno destra su arrivo e sinistra 6 su rosso all'arrivo ok ok 6 minuti e 12 vediamo un po' poi com'è la classifica effettiva eccoci qua beh non dovremmo aver fatti grossi danni eh siamo primi ottimo però come detto insomma questi c'hanno rally 2 quindi è assolutamente un'altra categoria rispetto a noi infatti è un po' in parista situazione dai se le ci piace vince facile però ripeto se ci fa partecipare che ci posso fare cioè dovrebbe mettere qualche altro avversario che abbia la stessa categoria nostra eh se ci dare la possibilità di correre con la nostra e loro con altra eh che ci posso fare per quello non c'è da penso i riferimenti perché sono proprio altre classi altre vetture inutile perché altro potrebbe essere assolutamente una brutta prestazione nostra non riuscire a batterle malgrado eh appunto una vettura comunque più performante vabbè concentriamoci questa è l'altra tappa un po' più corta non ho visto quant'è a lunghezza però insomma vedendo i segmenti che so decisamente meno no 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 normale però mancate il punto di frenata se c'era se non c'era asfalto e c'era qualcos'altro delle superfici ci saremmo andati sotto facili proprio asfalto ci ha un po' aiutato per via dell'aderenza accendo destra non tagliare cento sinistra 4 media sessanta destra 3 chiude cinquanta sinistra 2 chiude ottanta sessanta destra 1 corta sinistra 2 corta in destra 1 media non tagliare ok uh cazzo ma ha detto pure non tagliare noi che abbiamo fatto abbiamo tagliato e avemmo preso il muro fratelli vabbè ma famocela così che ero tabucata per ora perché se fermavo pure a sistemarla perdemo un sacco di tempo sinistra 2 ovviamente non sembra da troppi problemi però ecco uh fermati fermati ultime parole famose non sembra da grossi problemi boh dritti proprio ce la fai a risali su? ah e l'hiamo fatta sinistra 4 apre 120 cazzo cazzo ma non c'è mai più stiamo su su cerchi ma sa eh abbiamo qualche problemino dee a farla girare verso sinistra destra pure pure ma sinistra a fine comunque abbiamo perso lo stesso tempo che ci avremmo perso a cambiarla sta gomma vuoi non vuoi il tempo comunque se lo siamo persi vabbè vediamo dai fortuna c'è un bel po' di una frena 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 uccida ah ma so che devo dai 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 faro si cazzo a cambiarla perchè non manca tantissimo eh ma qua ma finisco fermati eh vabbè appena è da 30 secondi e niente faccio prima a cambiarla eh tanto ormai la frittata è fatta perlomeno mo tengo sto sette di gomma per riescare ad arrivare al traguardo perlomeno destra cinque porta io accendo sinistra cinquanta perché per rompa andava pure bene appena hanno detto ah guarda va bene buco se poi andate sotto dritti proprio sinistra quattro sudosso 80 dai ultimo settore attenzione sinistra 6 30 sinistra 1 corta 30 destra 3 destra 3 destra 3 mia avevo già visto che stava indirizzasse in maniera errada 100 rallenta ritarda sinistra 5 corta 50 destra 3 100 saremmo arrivati con qualche minuto di ritardo pure da dall'altra categoria vabbè perlomeno ci abbiamo dato un po' di sfida se non era troppo facile no 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 mi ho provato a far la girata di freno ma no ha peggiorato proprio la situazione capirei occhio ma io vedo proprio come sta sta proprio sul cerchio praticamente però dovrebbe essere ovviamente l'antirio di destra un po' tutte e due non so a sto punto no è l'antirio di destra si ma ha pure detto tagliare noi boom preciso ultimi ovviamente mamma mia classifica generale trentesimi e qua è tosta raga c'è da recuperare un minuto e due fatto proprio una cacchiata paurosa vabbè dai passiamo a quella successiva più che altro le prossime so pure con cioè non questa che viene le altre due con la pioggia credo perché ci abbiamo due sette da bagnato quindi mi è da pensare che sia così ecco questa pure di notte e ci vuole tutto ci vuole si stama bene soprattutto le luci qua ok dai come nuovo direi allora pneumatici qui andiamo di morbidi assolutamente assolutamente e poi ne abbiamo due abbastanza corte da 8 km perlomeno quelle non sono troppo lunghe però appunto il fatto che ci ha dato dei sette da bagnato boh pensavo che appunto mi dovessero servire vabbè vediamo insomma perché non ti fa bene sta tappa c'è da recuperare veramente tanto tanto ragazzi via in un dosso rallenta 90 sinistra 3 40 destra 1 corta vediamo questo pezzo che hanno fatto prima destra 6 sudosso 110 sinistra 4 sudosso lunga 70 sinistra 5 via 40 azendo destra 50 sinistra 5 corta rallenta 90 eeeh se me laghi pure mentre sto a fa curva però mia ci si mette pure al gioco eh non tagliamo stavolta andiamo a retta al nostro popilota ecco il fatto che non abbiamo riferimenti quindi è sempre una scoperta una volta che arriviamo al traguardo accendo destra rallenta 70 attenzione stai a sinistra sudosso e destra 4 chiude lunga e accendo destra lunga 60 lunga chi è sinistra 6 50 destra 5 sudosso rallenta 60 sinistra 1 lunga 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 e sinistra 6 lunga 40 ok 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 chiude e sinistra 5 sudosso dosso 100 ritardo a destra 4 lunga 40 sinistra 3 apre e sinistra 6 lunga 50 destra 4 lunga 100 destra 5 chiude 60 sinistra 5 chiude 3 30 destra 2 60 belli sparati sinistra 3 non tagliare 50 destra 3 pieni in sinistra 2 media apre 30 secca destra media 80 è andato male sto pezzo eh ovviamente vediamo tutto il resto però destra 4 corta in ritardo a sinistra 4 90 destra 2 60 sinistra 2 media ok 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 70 90 destra 4 90 sinistra 6 100 sinistra 6 sudosso 40 rallenta destra 5 lunga più de 3 all'incrocio 50 2 3 all'incrocio eccolo sinistra 6 rallenta 50 destra 6 aspetta qua il medio è un po' guarda qua sembra un po' nuvoloso eh quindi non sembra promette niente di buona per le tappe successive che ha chiuso cartello questo è l'altro pezzo di tappa occhio no cazzo la nazione è arrivato lungo e va beh e vabbè ho fatto bene fino a me e me sto a fare cacchiate apre 90 sinistra 4 50 destra 3 non tagliare apre 60 rallenta sinistra 6 chiude 2 lunga e sinistra 4 70 destra 5 corta non tagliare 70 rallenta azendo destra lunga lunga 50 sinistra 4 corta stringe e tornante destro apre niente a me mi piace sempre da girare prima te del tornante non lo so e quel pezzetto di strada che mi trae sempre in inganno da nazione chio chio dai che siamo all'ultimo settore spero di aver recuperato perlomeno qualcosa che cosa accenno sinistra 70 destra 4 50 arrivo destra 6 e tornante destro all'arrivo ok ok con questa e altre due tappe le abbiamo cercato di ricoprare un minuto almeno che non vanno lentissimi loro la vedo molto molto tosta come cosa però vediamo un attimino com'è andata wow questa sì che è una bella mossa minchia secondi ho pensavo fosse andare meglio invece no addirittura da due minuti beh ho fatto qualche cacchiatina però abbiamo perso perso tanto beh sicuramente qualcosa in classifica generale magari l'abbiamo recuperato sono ventunesimi però insomma abbiamo 59 secondi da leader eh pensavo meglio in verità eh mi sembrava che fosse andato più più veloce bella sta inquadratura dall'alto ti è vabbè andiamo in in area di sosta vediamo un po' com'è la situazione sicuramente ho perso tutto negli ultimi settori che siamo andati per fratte praticamente ovviamente quindi il tempo che fa retromarcia e tutto ovviamente per i secondi vediamo il veicolo ok allora vediamo un attimo i pneumatici 100% asfalto però mi dici il meteo ma non porta pioggia oh non so perché ci stavano addirittura i pneumatici di le pioggia si vede che li mette tutti a disposizione poi uno sceglie quello che gli serve ehm però non c'è i motreni rimasti quindi praticamente dobbiamo fare tutto con questi morbidi ma c'è qualche bug da qualche parte scusate eh non lo so c'è qualcosa che mi sfugge eh perché non mi fa conferma ma davvero devo mettere quelle da pioggia scusa non porta pioggia ma che è stato di ma che è stato di cesserino perché mi fai montare i pneumatici di pioggia perché non posso usare questi consumati perché è sta cosa ma capisco cioè c'è sta bug di qualcosa perché sennò non si spiega ah perché non ho la ruota di scorta giustamente ecco perché vale il problema ah ok vabbè confermavo questa vabbè non potremmo buca praticamente e speriamo di non farlo ovviamente però vabbè dai concentrati e vediamo di fa bene riuscivo a capire ma effettivamente mancava la ruota di scorta c'è da tempo però che lo shutdown col cavolo che ti dà un set in più le gomme scusa ho fatto tutta la tre tappe di cui uno ho utilizzato un set medio e uno un set morbide e ma non c'erò più un altro set vorrei avere un altro set nuovo e invece no eh da preoccupare che io dove vado non taglia ma mi butto direttamente di sotto vabbè concentriamoci dai cerchiamo di non rovinarle occhio niente siamo partiti malissimo eh oh male male attenzione destra 3 chiude secca 30 stai a sinistra sudosso 40 sinistra 4 media non tagliare 40 destra 6 sinistra 6 80 rallenta destra 5 chiude 30 sinistra 1 media 90 destra 5 chiude dici non tagliare 30 stai a destra sudosso 120 attenzione accendo destra lunga chiude 6 sinistra 4 80 sinistra 6 media ok 60 destra 4 abre 100 attenzione destra 3 sudosso media 80 destra 4 chiude la mia sinistra 4 media 30 80 ritarda sinistra 1 70 accendo sinistra 60 rallenta ma così cerchiamo di essere più puliti possibile di sinistra sinistra corta di destra 80 ah eh fate corto l'avevamo preso ah prudito scusate sta prudente il collo sta ovari ok ok andiamo concentrati e sinistra 5 lunga chiude 1 vieni accendo destra 90 destra 3 lunga in destra 6 e ritarda sinistra 4 chiude in destra 3 corta e sinistra 2 chiude 50 60 sinistra 3 60 sinistra 4 sinistra 4 gossi 50 destra 4 corta 30 sinistra 3 corta 60 sinistra 5 tieni destra 4 e sinistra 3 30 destra 2 corta 60 oh sinistra 5 chiude no pertanto cercare non castrasse nuovamente rallenta sinistra 6 lunga lunga chiude 3 40 destra 3 media 90 sinistra 5 chiude e destra 2 sono nell'ultimo settore 30 accendo destra e destra 3 corta 30 sinistra 4 apre 30 sinistra 4 40 accendo destra e dosso lungo in sinistra 6 in destra 4 250 nooo porco giuda si vabbè dannazione era pure il pezzo veloce messa un attimo una ruota due ruote fuori proprio partita così come il sapone ah sfiga 60 ci voleva in quel pezzo a perdere tutto quel tempo era proprio il pezzo veloce per recuperare eravamo abbastanza lanciati pure ha fatto la cagata proprio là destra 4 corta su arrivo 70 all'arrivo ok tempo di 4 minuti 55 0 vediamo un po' come è andata peccato per quella per cui testa corta e per tutta la parte iniziale che ha fatto troppi errori vediamo un po' che guida eccellente eh secondi peccato perché senza sti errori saremmo comunque stati in prima posizione se abbiamo finito a un secondo e tre malgrado l'uscita e giravorte che abbiamo fatto nella prima parte però piano piano stiamo risolvendo risolvendo insomma eravamo 17 pure prima cosa perché altro il distacco ha aumentato perché diminui vabbè perché arriviamo sempre secondi se accumulamo distacco dal primo che è sempre lo stesso ovviamente anche in classifica generale devi aggiungerlo va bene allora facciamoci l'ultima tappa ragazzi e anche perché pensa che con questo pessimo risultato la prima posizione anche nella classifica generale degli eventi vacilla perché non mi ricordo quanto è il vantaggio che avevamo però questa performance non è assolutamente il top abbiamo pure i gomme non performanti quindi andiamo a stare attentissimi insomma ecco per metterci le buca quindi assolutamente andiamo a prestare attenzione e lo stai cazzo sai che taglio proprio per niente perché Chiamate Portare a casa la macchina Eeeh Dai Chiamolo perlomeno Deve venire in bellezza Perlomeno l'ultima tappa Chiude In destra 5 Media 70 Destra 3 corta Tieni di sinistra 4 60 Destra 3 sudossi 40 Sinistra 6 Chiude 3 corta In destra 3 120 Taglia così 50 Dosso 50 Sinistra 6 media 70 Acceno destra 60 Allenta sinistra 6 Lunga più le due corta E destra 6 Chiude 1 50 Sarà bene Ma l'ho già vista un attimino di fuori Perché L'ho iniziata a curva un po' In ritardo Ah Battimuro Rallenta Rallenta Ritardo Destra 1 Apre lunga 30 Sinistra 5 Chiude 3 Lunga Apre 60 Dosso 60 Destra 3 corta 30 Sinistra 4 90 Sinistra 6 40 Ai Emanca Emanca Pagano Somma Ritardo Sinistra 4 Apre 50 Acceno destra Lunga 80 Rallenta Acceno destra 70 Destra 1 30 Ritardo Destra 4 50 Sinistra 3 Media 70 Sinistra 4 Lunga 120 Sinistra 4 Corta 60 Sinistra 5 Corta In destra 6 Lunga Quarta Ha detto pure che è corta Ma non pensavo così corta Non tagliare In sinistra 5 Apre lunga 120 Dai l'ultimo settore Per noi Non tagliare Sinistra 4 100 No 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 Eh Che sta proprio tardissimo Nella curva Cortona Ci ha rimbalzato Praticamente In pista Cento sinistra 60 Destra 5 Media 50 Rallenta Dosso 40 Tornante sinistro Apre 30 Destra 6 Su dorsio 40 Eeeh Dannazione Sinistra 5 Più da lunga Non tagliare Quando devi girare Per gli tormenti Non gira Poi appena metti Un attimo Le ruote fuori Parte in testa Cote Ma se ci fossero Domani 120 Sinistra 1 30 Destra 6 40 Retalda Sinistra 3 Chiude 170 Dai dai Non c'è proprio Ok Vediamo un po' Se siamo riusciti Perlomeno a chiudere L'ultima tappa In prima posizione Vediamo un attimino No Meno male 7 secondi Beh Meno Una soddisfazione Noi ce la siamo torta Non male Non male Rimane Rammarico Perché insomma Alla fine Abbiamo fatto qualche cacchiata In più Che avremmo potuto evitare Ovviamente Quindi 13esimi Non prendiamo punti E questa può essere Una battata Al resto Pure in classifica generale A sto punto Come si fa Per classifica generale Ok Ok Eccoci qua Siamo Quinti Punto Siamo scesi Perché noi abbiamo preso I punti I secondi Ne hanno presi ben 25 Con questo rally Quindi Sarà Siamo ancora primi In classifica Generale Ok Evento Zero Però Questi 18 Sono secondi Non so Non ho capito A sta cosa E Vabbè Perlomeno Una piccola soddisfazione Ce l'abbiamo Ancora di mantenere La leadership In una classifica Vabbè 75.000 Di riparazione Insomma E poi Poco Però perlomeno Siamo dentro I limiti 75.000 A 0.50 Per la precisione Però Comunque Siamo Siamo Là Babbini Allora Ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare Qui Io come sempre Vi ringrazio Per la visione Se vi va Lasciatemi Un commento Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Un pollicino in su Per supportarmi E Aiutarmi Appunto A crescere Io Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao